spettacolando tv siamo qui con maria laura baccarini teatro piccolo eliseo questa sera il grande debutto di io gabber e le cose peraltro tratto da una famosa canzone di gabber gabber io le cose infatti si chiama la canzone io le cose bellissima ma perché gabber perché l'abbiamo visto diverse volte in scena però da maria laura baccarini no perché questo questo spettacolo non è inflazionato qui in italia no no anche perché è nato è nato in francia e poi si è detto ma visto che parliamo in italiano non sarebbe anche il caso no in realtà perché gabber perché in parte fa parte della mia della mia vita del mio passato del tuo dna si può dire si sai piaceva tantissimo ai miei genitori mai avrei pensato di avvicinarmi poi effettivamente al suo repertorio come interprete è successo quando è arrivata la maturità e ebbene sì cioè quando cresci e cominci ad avere voglia di dire quello che pensi attraverso le parole delle parole nobili si vuol dire che gabber è un esistenzialista dal momento che tu vivi a parigi e la diciamo è la fama del dell'esistenzialismo a parigi perché diciamo che c'è giuliette grego ci sono i grandi gabber sarebbe piaciuto moltissimo ai francesi allora lui non ha detta insomma dei suoi amici della fondazione aveva un grande chiaramente un grande amore per la francia ci sono anche tantissimi tantissime citazioni io ho scoperto le citazioni di celine in tanti suoi monologhi ammirava molto tutta tutta la generazione gemella no poi del cantautore italiano c'è dei jacques brel bassa eccetera ma non ha mai avuto il coraggio di passare le alpi perché aveva il terrore di non essere compreso cioè che in effetti un autore come lui che basava molto sul senso di quello che diceva il suo lavoro l'idea di non essere capito non l'ha non l'ha non l'ha incoraggiato a fare questo passo io trovandomi lì invece quindi costretta come direbbero i francesi faire affaire avec allora diciamo che faccio generalmente questo spettacolo con una piccola prefazione in francese nella quale spiego chi era giorgio gabber brevemente e poi spiego brevemente il percorso psicologico che faccio attraverso i brani specifichiamo a roma dove la maggior parte dei romani non sono anche l'italiano no sto scherzando devo fare la prefazione questo è per i romani e per gli italiani colti ma poi no invece invece posso dire invece al contrario che la poesia raffinata di sandro luporini che poi era l'autore dei testi di gabber ha questa prerogativa di essere un linguaggio molto raffinato ma molto diretto molto concreto che arriva al popolo è una poesia concreta io la definirei così ed è vero anche che è così delicato che tu ti rendi conto che se per caso ti sbagli sbagli posizione di una parola in un monologo che come dire nella lingua italiana normale non succede niente distrugge un equilibrio cioè è molto è un linguaggio semplice e molto complesso la canzone a cui sei più legata di gabber una delle mie preferite è quella con cui comincio è il dilemma allora un amico giornalista effettivamente il dilemma c'è il dilemma sull'uomo e la donna in realtà il dilemma parla proprio del dell'impossibilità in teoria dell'uomo e la donna di vivere insieme tutta una vita e dell'ostinazione e in un certo senso delle trappole che l'uomo si è costruito attorno ma tu sei per vivere tutta la vita con uno stesso uomo? ma io non so che dirti l'avessi conosciuto all'inizio della mia vita ti potrei dare una risposta dipende quando incontri l'uomo giusto io l'ho conosciuto un po' tardi e infatti non ho figli anche per quello perché era un po' tardi però però viva sei più consapevole però esatto e questa è la consapevolezza non ho voglia di andare ormai ho già fatto tutti gli errori l'ho già fatti prima per cui adesso sono nel mio poi errori e non ma insomma le mie avventure passate non ho indietro 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 nel tempo no no quando hai iniziato con pronto chi gioca aiuto tu sei stata una rivelazione ma quello per me è stato un capitolo che mi ha servito a capire quanto in televisione fosse fragile il successo di una persona i motivi per i quali hai successo è un caso e io non amo molto questa fragilità a me piace costruire le cose e avere un po' di di nel nostro mestiere non abbiamo mai sicurezze ma almeno la sicurezza di quello che senti di quello che hai costruito si poi se funziona non lo sai mai oggi sei insegnante ballerina anche è vero cantante attrice fai tutto insomma basta smetti la tua attività principale qual è a parigi è cantante soprattutto perché però collaboro anche con uno scrittore francese molto molto bravo che si chiama yana peri e che mi fa fare sempre delle acrobazie allucinati per esempio con la con la radio radio france perché la radio francese se tu la vedi sembra un palazzo non so sembra una di quelle costruzioni dei film di fantascienza no sembra un palazzo non so sembra un palazzo non so sembra un palazzo tondo e radio france con france culture quindi tutte le parti tu racconti con la fantasia di una bellina vero lo hai scoperto o lo hai intuito l'ho anche scoperto però ci si arriva facilmente noi con lui per esempio facciamo delle cose bellissime di prosa in musica abbiamo fatto degli esperimenti molto belli nei quali mi fa fare delle acrobazie da italiana in francese mi mette a dura prova c'è qualcosa che rinneghi del tuo passato? rinnegare non si rinnega mai è anche stupido in realtà rinnegare cioè si si fanno degli errori ci portano sicuramente qualcosa cioè io comunque le cose che non rifarei sì ce ne sono di cose che non rifarei ma poi mi domando anche avrei fatto poi quel passo avrei incontrato poi quelle persone non lo so per ricordare un grosso musical che hai fatto in passato è chorus line è stato il primo è stato il primo e quindi sei legata a quella molto molto anche perché poi è un musical che ho fatto anche in lingua originale ho fatto il tour inglese perché la nostra regista all'epoca americana era molto easy diceva vieni in inghilterra no? ma cosa appariggi più di roma? adesso un po' oh ma adesso non ti fa questa domanda ma assomiglia diciamo in un certo senso c'è una vaga assomiglianza nel senso ci assomigliamo per... allora abbiamo delle cose a cui non possiamo rinunciare perché un italiano vive bene in Francia sì perché comunque anche se la cucina è diversa ma c'è un grande gusto per l'alimentazione per i prodotti buoni eccetera quindi questo sicuramente è un aspetto che ci accomuna poi beh Parigi è una città molto... che offre molto che offre tanto all'artista soprattutto offre tanto offre tanto agli artisti le cose sono cambiate come dicevo prima diciamo di cominciare l'intervista i miei amici francesi si lamentano molto spesso e io rido rido perché delle cose di cui si lamentano loro noi sogneremo infatti è vero quindi c'è in questo diciamo che con un po' di attenzione c'è una burocrazia molto complessa però se si vuole il sostegno dello Stato per la creazione c'è Ritornando a Gabber qual è la frase che riassume l'esistenzialismo di Gabber? c'è una frase di una canzone? ti ho messo a... beh posso dirti... no c'è questo... il nostro spettacolo si conclude in realtà conclude... c'è un cerchio che si chiude in realtà me ne sono accorta dopo diciamo cose fatte però si comincia con un dubbio con il dilemma e l'ultima canzone che è proprio delle cose dice proprio questo io non so niente ma mi sembra che ogni cosa nell'aria e nella luce debba essere felice io non so niente ma mi sembra che due corpi nel buio di una stanza debba essere esistenza bellissima, molto bella quindi in questo senso se abbiamo un dubbio perché un uomo, una donna eccetera poi diciamo che quello che lui dice l'aspetto che amo di Gabber è che di fondo per quanto possa essere a volte collerico a volte spietato è molto attuale però ma non solo ma c'è un profondo amore per l'uomo una profonda fede nell'essere umano e c'è sempre comunque una luce in fondo al tunnel anche quando è più arrabbiato poi alla fine se ne esce tu sei accompagnata in questo percorso musicale da un violinista straordinario straordinario veramente un violinista che ha infatti so che in genere quando dico ah ha un duo violino voce fa no 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 poi quando lo vedo sono tutti estasiati perché fa un lavoro fa un lavoro incredibile ah come potrai vedere da lontano si vuol dire che è un'altra voce che fa da contralto alla tua ma è anche diciamo è tutto quello immagini che è come fosse del cinema senza immagini e lui riesce a riesce a creare proprio i paesaggi e poi ricordiamo il nome Regis Hubi te l'ho fatto dire a te perché tu con questo francese meraviglioso tu sei fantastica ormai ho dovuto allenarmi no ma è per me non penso che avrei fatto non avrei mai fatto questo lavoro se non ci fossimo incontrati ti ringrazio di questo incontro grazie a voi spettacolando tv ci vediamo qui con io Gaber e le cose Gaber io e le cose ah Gaber e io e le cose prima Gaber prima Gaber giustamente io se no sarebbe stata una cosa io no no io Gaber no Gaber io e le cose teatro piccolo liceo fino al 21 febbraio domenica fino a domenica a correte numerosi yes non è da perdere Gaber e Maria Laura Baccarini ciao Ciao.